Torna a tingersi di giallo l'abruzzo della carità concreta, il giallo vivo delle pettorine dei sacchetti che da 23 anni caratterizzano la giornata nazionale della colletta alimentare. L'iniziativa promossa dalla fondazione Banco Alimentare Onlus che torna puntuale sabato 30 novembre in 400 punti vendita aderenti. Come sempre ad accogliere i clienti che si recheranno a fare la spesa, ben 4.000 volontari tra quelli del Banco Alimentare e quelli delle altre associazioni che sono coinvolte in questa importante iniziativa. La mission del Banco è quella da un lato di eliminare lo spreco alimentare andando ad intercettare tutte quelle eccedenze del mondo dell'agroalimentare che quindi sarebbero destinate allo smaltimento ma invece vengono recuperate durante l'anno e dall'altro lato l'altra mission è la riduzione della povertà. Quindi con questi due asset il Banco Alimentare quotidianamente assiste abbiamo detto in Abruzzo più di 29.000 persone. 4.000 volontari accoglieranno le persone che andranno lì quotidianamente a fare la loro spesa chiedendogli un gesto di carità quindi chiedendo un gesto di fare la spesa per le persone che durante l'anno noi assistiamo. Quest'anno in Abruzzo in Umbria la colletta alimentare avrà anche un eseguito calcistico. Le magliette infatti della gara Perugia-Pescara in programma domenica primo dicembre verranno messe all'asta e il ricavato sarà dedicato proprio al Banco Alimentare d'Abruzzo e d'Umbria. Domenica primo dicembre ci sarà in occasione della partita Perugia-Pescara la possibilità di acquistare le maglie che saranno indossate dai giocatori poiché le due squadre hanno deciso di aderire ad un'iniziativa importante che è quella della colletta alimentare quindi donando queste maglie che poi saranno posizionate in asta su ebay e l'intero ricavato sarà destinato sia al Banco Alimentare Abruzzo che a quello dell'Umbria. Ringraziamo di conseguenza insomma le due società che hanno dato questo importante apporto significativo soprattutto perché poi non dimentichiamo che tante sono le persone che aderiranno a queste iniziative e di conseguenza i collezionisti che saranno coloro che riusciranno comunque ad aiutarci nel dare questo ricavato sono i protagonisti.